Professoressa, perché i tumori rari? I tumori rari oggi in ambito oncologico costituiscono una problematica importante. Io vorrei innanzitutto far capire qual è la dimensione del problema, cioè quanti sono i casi in Europa di persone ammalate di tumore raro. Si annoverano circa 4.000 casi di persone ammalate in Europa, di cui 450.000 nuove diagnosi l'anno. I dati italiani quali sono? Sono che abbiamo 450.000 persone malate di tumore raro e di cui 60.000 vengono diagnosticate ogni anno. Le problematiche dei tumori rari sono tante. La prima, la più importante, è quella della diagnosi. La seconda è la strategia di cura, che molto spesso è molto complessa. L'altra complessità deriva dal numero delle patologie annoverate rare. Se ne contano circa 200 unità. Quindi, diversità tra loro, numero di casi, sono le problematiche importanti. Noi abbiamo costituito nell'ambito dell'azienda UFEDERICO II questa progettualità del centro di riferimenti tumori rari, ovviamente prendendo a modello soltanto 4 modelli di tumore raro, considerato le problematiche e il numero. Di questi, quelli di cui siamo verosimilmente più appealing, più ricercati per la patologia, come i tumori del timo, i tumori del testicolo, i tumori stromali, gastrointestinali e i tumori neuroendocrini. Nell'ambito dell'azienda ne abbiamo cercato di verificare quali siano le criticità oggi più importanti inerenti a queste 4 patologie. Le abbiamo identificate e sono in corso dal primo progetto. Sono nati tanti progetti satelliti che sicuramente avranno un impatto anche nazionale sulla patologia. L'altro dato, per questo abbiamo organizzato quest'anno questa prima conferenza sui tumori rari, che vuole essere un po' un high-glides, cioè cosa c'è di innovazione in questa patologia considerata rara. e, secondo punto, dare almeno creare nell'ambito della Regione Campania l'aggregazione di specialisti che sono interessati alla patologia, nonché quella interazione funzionale tra specialisti che ci consente di tracciare una strada dalla diagnosi al management di queste patologie.